Il 19 marzo 1959 nasce Pino Daniele a Napoli. Il consigliere Borrelli, il bar Gambrinus, lo vogliono ricordare con un dolce a lui dedicato, il Pinuccio, ma soprattutto con questa meravigliosa opera di alta pasticceria. Sinapsi News e Napoli News Magazine stanno seguendo. Assaggiate questi bellissimi dolci, siamo in diretta. Assaggi questo dolce dedicato a Pino Daniele, è gratuito, venga non si spaventi. E il Pinuccio, un dolce dedicato a Pino Daniele, è buonissimo. Francesco Emilio Borrelli, sempre sensibile a queste problematiche che affliggono la città, poco anzi parlavamo di assenza dello Stato più che della famiglia. Però noi stamattina siamo qua a festeggiare la festa del papà, siamo qua a festeggiare un personaggio non napoletano, universale, quale Pino Daniele. Non possiamo però non ricordare appunto quello che dicevi tu, un papà che è stato brutalmente massacrato 20 giorni fa alla fermata della metro di Chiaiano. Sì, oggi il Pinuccio è dedicato a questo papà, una famiglia che oggi non potrà festeggiare la festa del papà perché il loro padre è stato brutalmente ucciso da alcuni piccoli criminali. Per quanto ci riguarda questa iniziativa di oggi ricorda Pino Daniele che oggi è il suo anniversario ma ricorda, poiché capita in contemporanea con la festa del papà, ricorda anche questa famiglia che non potrà festeggiare la festa del papà. E a loro dedichiamo questa iniziativa. Ricordando anche un'altra cosa, Pino Daniele non solo è un simbolo napoletano ma è un simbolo nazionale e internazionale. E troviamo davvero strano che a ricordarlo siamo sempre e soltanto noi e non c'è una programmazione speciale legata alla sua figura e alla sua produzione artistica a livello nazionale. Non c'entra niente con quello che stiamo festeggiando oggi però ci piace, anzi è doveroso ricordare la scia di sangue lunghissima che vede però anche tante donne uccise, tante mamme sottratte appunto alla famiglia, ai propri figli. Ieri a Palermo una mamma di 20 anni, pochi giorni fa un'altra, ieri ancora uno a Terzigno. Cosa sta accadendo in questo paese? In questo paese si è tollerato troppo pensando che i criminali debbano essere solo recuperati e quindi non c'è certezza della pena. Alcuni di loro pensano che possono uscire di galera e purtroppo anche certe volte avviene anche dopo pochi mesi anche se commettono un omicidio. Se sono minorenni addirittura pensano che in galera non ci andranno mai. Bisogna ritornare a avere la certezza della pena e una repressione chiara nei confronti dei delinquenti. Se uccidi una persona ti devi fare certamente minimo 20 anni di carcere o addirittura fine pena mai. Questa è una posizione chiara, come deve essere chiara la repressione nei confronti delle baby gang. Coprifuoco a Napoli e provincia nei confronti dei minorenni non accompagnati dai genitori. Non si capisce per quale ragione al mondo ci possa essere il diritto da parte di alcuni genitori a far stare fuori casa alle 3 del mattino figli di 8 e 9 anni. Sono colpevoli questi genitori, sono colpevoli di abbandono di minore. E noi dobbiamo dirla ad alta voce perché se pensate oramai di avere solo diritti, anche diritti a fare cose allucinanti come lasciare bambini minorenni alle 3 alle 4 del mattino liberi di scorrazzare per la città rispetto ai doveri di essere genitori. E per quanto ci riguarda le famiglie criminali, non solo quelle dei camorristi ma anche le famiglie compregiudicati, più volte condannati, a loro devono essere sottratti i bambini fin dalla nascita perché non fanno bambini per amore ma premano a valanza. Sempre qui al Gambrinus in compagnia di Massimiliano, responsabile della pasticceria di questo straordinario storico bar che è il Gambrinus. Che cos'è il Pinuccio Massimiliano? Vogliamo spiegare ai nostri ascoltatori? Il Pinuccio è un dolce simbolo per ricordare Pinot Daniele. Pinot Daniele ci ha dato tanto nel corso della sua vita e della sua carriera artistica. E in un certo senso penso che ogni napoletano voglia in qualche modo restituirgli qualcosa. E nel nostro caso lo facciamo nell'unico modo che lo sappiamo fare, cioè facendo dei dolci che volenti o non volenti restano un poco nella storia della città e nella storia dei locali, ma soprattutto nel cuore della gente. Quindi abbiamo dedicato questo dolce, il Pinuccio appunto, che fondamentalmente è un dolce di moda se vogliamo in questo periodo, perché è questa sfoglia della sfogliatella farcita con cioccolato, ricotta e cioccolato bianco. Quindi è un modo per dire a Pinot Daniele un grazie per tutto quello che ha fatto per noi. E noi ringraziamo Massimiliano e anche questa meravigliosa struttura, ribadisco, storica e bellissima. Grazie Massimiliano. Grazie a tutti. Grazie a tutti.